Intanto Trittico è una macchina polivalente che viene utilizzata in tantissimi modi in laboratorio per pastorizzare, per cuocere, per realizzare confetture e marmellate. Io la utilizzo sempre per fare la maggior parte creme bavaresi, per pastorizzare le miscele del gelato, ma anche per fare delle glasse di frutta che in una velocità incredibile riesco ad ottenere. Quindi una macchina veramente non solo multifunzione, ma che può essere utilizzata per mille cose. In particolare utilizzo ogni giorno in pasticceria per il Trittico e la preparazione delle creme. Quindi facciamo molte tipologie di creme diverse e quindi anche piccole produzioni realizzate nel Trittico ci rendono la vita più facile.